Le biotecnologie come una leva per lo sviluppo e la competitività della ricerca italiana se ne è discusso a Napoli al Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza in un convegno promosso nell'ambito della prima edizione dell'European Biotech Week per rendere omaggio al sessantesimo anniversario della scoperta della struttura del DNA. L'evento è stato organizzato da Asso Biotech in collaborazione con Teleton. Al convegno dal titolo Le Biotecnologie e Medicina sono intervenuti Francesca Pasinelli, Teleton, Luigi Naldini dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica, Jonathan Apleik, GSK, Andrea Ballabio dell'Istituto Teleton di Genetica e Medicina TGEM, Susan Khaled Shear e Alessandro Sidoli, Presidente di Asso Biotech ai nostri microfoni, Ballabio. Noi ricercatori vogliamo che le nostre ricerche si vadano a trasformare in terapia per i malati, in cure per i malati e solo tramite collaborazioni tra i ricercatori e le industrie farmaceutiche solo così può avvenire questa trasformazione delle scoperte scientifiche in terapia. Per Francesca Pasinelli, direttore generale di Teleton, l'esperienza della fondazione Teleton dimostra che una ricerca di ottima qualità riesce a produrre risultati concreti e diventare così interessante per l'industria anche se svolta in contesti accademici relativamente piccoli rispetto ai principali centri internazionali.